Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della vostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della vostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della vostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della vostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della vostra morte, Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della vostra morte, Amen. Grazie a tutti. 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 a tutti.